We the Champions è un'iniziativa in programma martedì 13 di settembre alle 20.30 al Palafiera di Pesaro, organizzata dalle società di calcio a 5 maschile e femminile, Ital Service e Città di Falconara. Un evento per celebrare i recenti successi di due società di calcio a 5, ma anche l'occasione per mantenere alti riflettori sulle pari opportunità in campo sportivo. Abbiamo pensato di fare questa partita proprio perché lo sport deve essere unione e dunque non ci deve essere la differenza tra maschile e femminile. Dunque siamo insieme, siamo insieme in tutto e dunque abbiamo deciso di fare questo evento proprio per solidificare ancora più questa amicizia, che non era solo sportivo ma proprio una vera amicizia. Il valore di questo appuntamento? La divisione calcio a 5 supporta in tutto e per tutto le due società a campione d'Italia affinché le pari opportunità tra femmine e maschi, quindi uomini e donne, siano alla stessa maniera. La divisione in questa iniziativa è in prima linea e al fianco delle sue società. È l'unione fisica di due società che hanno vinto tutto, unite nello spirito e l'amore per il calcio a 5, unite nei successi. Tecnicamente gli allenatori sceglieranno uno per uno, un calciatore e una calciatrice, si faranno le loro squadre. Quindi le società più vincenti d'Italia e della storia del calcio a 5, che in un anno irripetibile hanno vinto tutto, staranno insieme, suggellando un'amicizia totale. È una nostra missione, quella proprio delle pari opportunità e devo dire che questa partita Gui de Champions delle due squadre, la città di Falconara e l'Ital Service proprio di Pesaro, mi hanno dato l'opportunità di proseguire il filone di sport, proprio pari opportunità che ho intrapreso, iniziando lo scorso anno proprio con la gara ciclistica a Gran Fondo e poi domenica scorsa all'Ippodromo di Montegiorgio, dove abbiamo visto proprio disputare insieme uomini e donne. Anche in questa partita a 5 insieme praticamente giocheranno praticamente uomini e donne, proprio per ribadire il fatto proprio che non devono esistere pregiudizi e ostacoli vari. Quindi siamo qui per questo e questa è la nostra missione, la porteremo sempre avanti.